Molto bene, adesso vediamo alcune leggi molto importanti per i fluidi in equilibrio. Partiamo dalla prima legge, che è la cosiddetta legge di Pascal. Enunciamo la legge di Pascal e poi cerchiamo di spiegare con un disegno che cosa significa. La legge di Pascal dice questo, che applicando una pressione in un punto di un fluido, questa si trasmette in modo identico in tutti i punti e secondo tutte le direzioni. Naturalmente se il fluido è in equilibrio. Allora che cosa vuol dire questa legge? Questa legge vuol dire questo. Supponiamo di prendere questo punto e di applicare in questo punto una forza F e quindi ne risulta una pressione P con 1. Va bene? Allora andiamo qui in quest'altro punto e prendiamo ad esempio, in questo caso qui avevo preso come elemento infinitesimo di superficie di S questo, adesso prendiamo un elemento di superficie di S in quest'altro punto, questo punto lo posso chiamare A, mentre quest'altro punto lo posso chiamare B. Allora che cosa succede per la legge di Pascal? Che questa pressione P1 si trasmette in modo identico in tutti i punti e in tutte le direzioni. Quindi, secondo questa direzione, la pressione sarà appunto P con 1. Va bene? Questa è dunque la legge di Pascal. Bene, adesso arriviamo ad una legge diciamo più quantitativa che è la famosa legge di Stevin o di Stevino. Va bene? Legge di Stevin, Simon Stevin. Allora, che cosa dice la legge di Stevin? La legge di Stevin dice che la pressione alla profondità H è uguale alla pressione agente sulla superficie libera del fluido più un termine addizionale che si chiama pressione di altezza dato dal prodotto della densità per l'accelerazione di gravità per l'altezza. Cioè, cerchiamo di spiegare anche qui con un disegno che cosa vuol dire. Allora, supponiamo di avere il nostro fluido. Supponiamo di metterci, diciamo, ad un'altezza H. Ricordiamo che il nostro fluido in equilibrio si trova in un campo gravitazionale. Va bene? Per cui il peso gioca un ruolo fondamentale. Allora, supponiamo che sulla superficie libera dell'acqua agisca una pressione P0. Allora, alla profondità H agirà una pressione P che risulta essere maggiore di P0 data da P0, cioè la pressione sulla superficie libera del fluido più un termine addizionale che abbiamo detto essere la densità del fluido per l'accelerazione di gravità per l'altezza. Naturalmente, questo che cosa vuol dire da un punto di vista pratico? Da un punto di vista pratico, diciamo, i sommozzatori che vanno a notevoli profondità nel mare devono utilizzare delle tute pressurizzate particolari perché, appunto, la pressione, grazie alla legge di Steving, aumenta con la profondità del mare. Bene, allora adesso quello che facciamo è una dimostrazione di questa legge di Steving. Quindi andiamo a fare la dimostrazione della legge di Steving. Molto bene. Allora, rifaccio nuovamente la nostra figura. Questa è la superficie libera. Qui abbiamo l'altezza H. Allora, sulla superficie libera dell'acqua, diciamo, agisce una certa pressione P con 0. Va bene? Allora, per, diciamo, la legge di Pascal, la pressione P alla profondità H è naturalmente data da questo a P0 e questa P0 si trasmette, diciamo, in tutti i punti più un termine addizionale che è il termine dovuto al liquido di altezza H che sovrasta il punto il punto alla profondità H quindi vuol dire sostanzialmente questa quantità qui questa colonna qui allora quindi possiamo dire che la pressione P è uguale a P0 più la forza peso di questa colonna che possiamo indicare con m piccolo g diviso la superficie ma attenzione che la massa si può scrivere come densità per volume quindi più la densità per il volume per l'accelerazione di gravità diviso la superficie ma il volume è superficie per altezza quindi abbiamo P0 più ρ superficie per altezza g diviso la superficie SS va via e quindi la legge di Stevin risulta essere per l'appunto dimostrata quindi si trattava di una dimostrazione molto semplice allora vi lascio un paio di esercizi da svolgere a casa quindi esercizio 1 allora supponiamo sostanzialmente di avere il mare la densità del mare diciamo è più grande della densità dell'acqua perché ci sono dei sali disciolti quindi supponiamo che sia 1025 kg al metro cubo ecco supponiamo di considerare una profondità di 4000 metri e di avere qui diciamo il nostro oggetto allora quello che vi viene chiesto è di determinare la pressione P alla profondità di 4000 metri va bene e poi di fare anche il rapporto fra la pressione P e la pressione atmosferica P0 che agisce sulla superficie libera del mare vediamo adesso un esercizio leggermente più difficile va bene supponiamo di avere un contenitore che contiene due liquidi contiene l'acqua va bene e contiene l'olio ok supponiamo che sulla superficie libera dell'olio agisce una pressione P0 lo strato di olio sappiamo che l'olio galleggia e ciò deriva dal teorema di Archimede dal principio di Archimede che vedremo diciamo a breve supponiamo che l'altezza dell'olio sia 7,2 centimetri mentre l'altezza dell'acqua sia 12 centimetri allora ci viene chiesto di calcolare la pressione P in questo punto allora attenzione come si risolve questo esercizio prima dobbiamo calcolare la pressione P1 diciamo nella superficie libera sulla superficie libera dell'acqua e si utilizza la legge di Stevin dove appunto si prende la densità dell'olio attenzione che la densità dell'olio potrebbe essere 920 kg al metro cubo una volta che conosciamo la pressione P1 andiamo a determinare la pressione P attraverso la legge di Stevin va bene questi sono i due esercizi che vi lascio a questo punto vediamo un remark allora attenzione noi abbiamo detto che la pressione P all'altezza H è uguale alla pressione P0 più la densità del fluido per l'accelerazione di gravità per l'altezza H ora attenzione che la variazione di pressione è anche la differenza fra la pressione alla profondità H e la pressione sulla superficie libera e si chiama anche salto di pressione corrispondente alla profondità H molto bene adesso vediamo un'altra legge importante che va sotto il nome di principio dei vasi comunicanti quindi principio dei vasi comunicanti va bene? allora supponiamo di avere un sistema di vasi comunicanti cioè sono vasi che comunicano tra loro per esempio il seguente sistema abbiamo questo sistema così questo così questo così e abbiamo questo tubo sotto che li collega va bene? supponiamo anche qui che il liquido sia in equilibrio come lo era diciamo nelle altre due leggi e allora cosa succede? succede che in un sistema di vasi comunicanti il liquido all'equilibrio si porta alla stessa altezza vuol dire che noi abbiamo qui la stessa altezza va bene? e vogliamo appunto dimostrare questo fatto allora per dimostrare questo fatto possiamo procedere in questo modo allora supponiamo di prendere qui diciamo una linea di tipo orizzontale supponiamo che questa altezza sia h1 che questa altezza sia h2 che questa altezza sia h3 sulla superficie libera di questo liquido agisce la medesima pressione diciamo p con 0 p con 0 p con 0 va bene? ripeto vogliamo dimostrare che h1 è uguale ad h2 è uguale ad h3 bene applichiamo allora la legge di steving la legge di steving che cosa dice dice che la pressione alla profondità h1 sarà p1 p0 più rho g h1 la pressione alla profondità h2 sarà p2 uguale a p0 più rho g h2 e la pressione p3 sarà p0 più rho g h3 questo è h2 ora attenzione siccome il fluido è in equilibrio è chiaro che deve essere p1 uguale a p2 uguale a p3 perché? perché se uno di queste pressioni dovesse essere superiore all'altra allora si assisterebbe ad un movimento del nostro fluido ma nei momenti in cui p1 uguale a p2 uguale a p3 siccome p0 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 è presente nelle tre pressioni rho g è presente nelle tre pressioni non potrà che essere quindi se solo se h1 è uguale ad h2 ed è uguale ad h3 e quindi abbiamo dimostrato il principio dei vasi comunicanti occupiamoci adesso della misurazione della pressione atmosferica cioè sostanzialmente andiamo a vedere l'esperimento fatto da evangelista Torricelli l'archimede del rinascimento per determinare la misura della pressione atmosferica allora consideriamo un contenitore contenente del mercurio che possiamo anche indicare con hg e prendiamo diciamo un tubo chiuso all'estremità contenente anch'esso del mercurio adesso cosa facciamo rovesciamo questo tubo all'interno di questo contenitore ecco si ha una situazione di questo tipo allora abbiamo qui il nostro tubo va bene del mercurio scenderà quindi sostanzialmente abbiamo qui il vuoto va bene e qui c'è il mercurio allora possiamo indicare con h questa altezza sulla superficie libera dell'acqua agisce la pressione atmosferica p con zero siccome qui c'è il vuoto la pressione del vuoto deve essere uguale a zero pascal applichiamo allora la legge di steving la legge di steving ci dice che la pressione alla profondità h che è proprio la pressione atmosferica visto che il sistema visto che il liquido è in equilibrio sarà uguale alla pressione del vuoto più il termine attenzione qui la densità è quella del mercurio g per l'altezza per cui attenzione siccome la pressione del vuoto vale sostanzialmente zero noi otteniamo che l'altezza raggiunta dalla colonna del fluido è uguale alla pressione atmosferica diviso la densità del mercurio per l'accelerazione di gravità cioè sostanzialmente questo sistema molto rudimentale è in grado di misurare la pressione atmosferica a partire diciamo dal rilevamento dell'altezza allora che cosa si scopre si scopre che 700 che un'altezza di 760 millimetri va bene corrisponde alla pressione atmosferica di 101 325 pascal allora ecco un nuovo modo di misurare la pressione cioè di misurarla i millimetri di mercurio cioè la pressione atmosferica è 101 1325 325 pascal nel sistema internazionale ma è anche uguale a 760 millimetri di mercurio attenzione se noi avessimo messo qui un altro liquido avremmo ottenuto un'altra altezza ecco perché è giusto chiamare questa nuova unità di misura della pressione in millimetri di mercurio naturalmente poi per passare dai pascal alla pressione in millimetri di mercurio basta impostare una proporzione perché perché la pressione la pressione in pascal sta alla pressione in millimetri di mercurio come 101 325 deve stare a 760 millimetri di mercurio quindi attenzione questa è la formula che ci permette di passare da una unità di misura della pressione ad un alto naturalmente adesso possiamo porci la seguente domanda per quale motivo al posto dell'acqua in questo sistema è stato messo il mercurio cioè d'altra parte il mercurio è diciamo è un fluido non così facilmente trovabile in giro perché diciamo evangelista Torricelli non ha utilizzato l'acqua ma semplicemente perché la densità del mercurio è molto più grande della densità dell'acqua di fatti se avesse utilizzato l'acqua quale sarebbe stata l'altezza di questo tubo allora avrei dovuto scrivere densità dell'acqua per altezza del tubo dell'acqua per l'accelerazione di gravità uguale alla densità del mercurio per l'altezza del mercurio per l'accelerazione di gravità l'accelerazione l'accelerazione va via la densità dell'acqua la conosciamo la densità del mercurio la conosciamo l'altezza del mercurio 760 mm, bisogna andare a calcolare l'altezza dell'acqua. Mi sembra che il valore si aggiri intorno ad una decina di metri. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi diciamo con il mercurio possiamo lavorare con un misuratore di pressione di altezza un metro, mentre invece con l'acqua avremo bisogno di un tubo di una decina di metri. Quindi è questa la ragione per la quale è stato utilizzato il mercurio e non l'acqua. Ecco, però visto che ci siamo andiamo a vedere altre unità di misura della pressione che stanno al di fuori del sistema internazionale. Allora, attenzione è che 101.325 pascal, abbiamo detto, corrispondono a 760 mm di mercurio. Dopodiché, attenzione, siccome si tratta della pressione atmosferica, si assume uguale ad un'atmosfera. Quindi la nuova unità di misura della pressione è l'atmosfera. Un'atmosfera sta a 101.325 pascal. Inoltre, attenzione, a 100.000 pascal invece si dà anche il nome di un bar. Quindi abbiamo quattro unità di misura della pressione. Il pascal, i millimetri di mercurio, l'atmosfera e il bar. Vi lascio il compito di andare a stabilire, diciamo, le altre proporzioni per passare dai pascal alle atmosfere, per passare dai pascal ai bar. È un esercizio leggermente più difficile per passare dai bar alle atmosfere. Ecco, l'ultima riflessione che voglio fare sulla pressione atmosferica riguarda le celebri sfere di Magdeburgo. Quindi sfere di Magdeburgo. Ora, supponiamo di prendere una sfera che può essere suddivisa in due semisfere. C'è un gancio qui a destra, c'è un gancio qui a sinistra. Ora, supponiamo di realizzare attraverso una pompa aspirante il vuoto all'interno, diciamo, di questa sfera, detta sfera di Magdeburgo. Allora, questo cosa vuol dire? Vuol dire che diventa difficile, diciamo, staccare questi due emisferi perché sostanzialmente sulla superficie esterna, diciamo, della sfera di Magdeburgo agisce la pressione atmosferica P0. Allora, adesso non ricordo quanti cavalli sono stati messi a sinistra e quanti cavalli sono stati messi a destra per separare le sfere di Magdeburgo. Provate ad andare a cercare su internet. Sicuramente un cavallo, due cavalli a destra e due cavalli a sinistra che tirano queste sfere di Magdeburgo non sono in grado di separare i due emisferi. Ci occupiamo adesso di una bella applicazione del principio di Pascal a questo strumento meccanico che si chiama torchio idraulico. Sostanzialmente abbiamo due cilindri aventi superficie o meglio sezione trasversale molto diverse, i quali sono collegati fra di loro. All'interno di questo sistema c'è un fluido, va bene? Ora, supponiamo che il cilindro 1 abbia una superficie S1 molto più piccola della superficie S2 del cilindro 2. Ora, supponiamo di applicare una pressione P1 alla superficie S1. Quindi, per il principio di Pascal, questa pressione si trasferisce in tutti i punti del cilindro e quindi la pressione P2 che si esercita sulla sezione S2 è uguale a P1. Ora, ci ricordiamo che P1 è uguale a F1 fratto S1, analogamente P2 è uguale a F2 fratto S2. Quindi S2 maggiore di S1 implica F2 maggiore di F1. Di conseguenza, applicando una piccola forza ad una piccola superficie, è possibile realizzare una grande forza ad una grande superficie. Ed è su questo principio che un meccanico, semplicemente pestando una piccola superficie, è in grado di sollevare un autoveicolo.